Oggi su Animalpedia ti offriamo i migliori consigli per prenderti cura dei reni del tuo gatto e mantenerli sani e forti. Dieta equilibrata Una dieta ricca di proteine di scarsa qualità può alterare la velocità di filtrazione dei glomeruli renali nei reni che non funzionano bene. Ecco perché è importante che se il tuo gatto soffre già di malattie renali, gli venga fornita una dieta speciale con determinati livelli di fosforo e proteine. Evitare la disidratazione cronica I gatti anziani sono spesso soggetti a una disidratazione lieve ma cronica, che può avere un impatto negativo secondario sui loro reni. È importante mantenere l'acqua fresca ad libidum, favorire l'idratazione con fonti d'acqua o gelatina per evitare danni ai reni. Evitare il consumo di sale Un elevato consumo di sale può causare secondariamente la produzione di edema nel corpo e un aumento della pressione sanguigna. Tutto ciò contribuisce a danneggiare i nefroni renali e a peggiorare la funzione dei reni del gatto. Evitare l'obesità L'obesità contribuisce al cattivo funzionamento dei reni per diversi motivi. Innanzitutto, attorno ai visceri e tra questi, i reni si accumula una grande quantità di grasso, che può provocare alterazioni nei nefroni, che sono l'unità funzionale del rene. Allo stesso modo, l'obesità produce lo stato infiammatorio cronica dell'organismo, che a lungo termine può danneggiare anche i reni. Inoltre, l'obesità nei gatti può produrre resistenza all'azione di urmone, chiamato insulina, responsabile della regolazione dei livelli di glucosio nel sangue, producendo il diabete di tipo 2. Il diabete a sua volta produce perdita di glucosio attraverso le urine e danneggia i vasi del gloverulo renale. Controllare la pressione arteriosa L'ipertensione provoca danni a lungo termine ai vasi sanguigni del reni, che possono compromettere la loro funzione di filtrazione del sangue e portare malattie renali secondarie. Ridurre al minimo lo stress I gatti sono molto sensibili ad ogni piccolo cambiamento nel cambiante e alle situazioni che possono causare stress. Molti di loro soffrono di ostruzioni uretrali secondarie e episodi di stress, e questo può avere effetti dannosi sulla salute del reni. Cerca di non apportare grandi modifiche al loro ambiente, soprattutto se si tratta di gatti più anziani, e di avere sempre almeno una lettiera per gatto, e una in più. Mantieni una buona pulizia della lettiera Una lettiera contaminata o eccessivamente sporca, oltre ad aumentare il livello di stress del gatto e indurlo a smettere di usarla, può comportare un maggior rischio di infezioni urinarie, che possono essere dannose per i reni se risalgono attraverso gli ureteri. Non automedicare il gatto Monzi dei farmici utilizzati dagli esseri umani sono tossici per i gatti e possono causare insufficienza renale acuta. Attenzione alle piante Esistono specie di piante tossiche per i gatti, tra quelle che causano maggiori danni ai reni ci sono i gigli. I gatti che ingeriscono i gigli soffrono per lo più di insufficienza renale acuta molto grave, quindi evita a tutti i costi che il tuo gatto entri in contatto con questo tipo di piante. Controlli veterinari frequenti Da un lato occorre controllare i livelli di azotenia nel sangue. Verranno misurati i livelli di urea, creatinina e fosforo, poiché sono parametri che aumentano nel sangue quando i nefroni non funzionano correttamente. D'altra parte dovrebbe essere effettuato il controllo delle urine. Quando un gatto soffre di malattie renali, normalmente ha un'urina molto più diluita del normale. Ciò significa che il tuo gatto urina più e più volte al giorno e secondariamente, per compensare berrà anche più acqua. Inoltre ci sono altri parametri molto importanti che vengono monitorati con l'urina del tuo gatto, come la quantità di proteine che i suoi reni perdono, nota come proteinuria. Raccontaci, ti prendi cura del reni del tuo gatto? Alla prossima volta esperti!